Ciao ragazzi qui è Lore, nel canale di Loed Besser, benvenuti nel primo Lore Taste. Oggi testeremo e assaggeremo il tè Fiusti al gusto pesca e rosa. È una bevanda commercializzata negli Stati Uniti dalla Coca-Cola Company, è poi arrivata anche in Italia, commercializzata sempre dalla Coca-Cola Company. Prima Nesti è distribuita dalla Nestlé, invece Nesti è commercializzata in Italia da San Pellegrino, purtroppo Nesti è diventata da Fiusti dal 2018. Fiusti lo fa in Europa e Nesti lo fa in Filippine. Ok. Vediamo i ingredienti. Gli ingredienti sono acqua, estratto di tè nero, acidificanti acido citrico e acido malico, corretto di acidità citrato, trisodico e gluconato di sodio, succo di pesca da concentrato, aromi naturali e trucuranti, ciclamato di sodio, acesufame K e sucralosio, antiossidanti acido assorbico e estratto di rosa. Ok, prima di aprire e versare il contenuto all'interno di questo bicchiere, voglio salutare uno youtuber, SaviTheSun. Ok, apriamo e versiamo nel bicchiere. scusate, mi metto un attimo in pausa, ci vediamo dopo. Mmm, il tè ha un colore più scuro perché c'è a scritto... perché c'è a scritto il tè nero. Mmm, si sente un buon odore. Ok. gustiamo e vediamo un po', infatti questo è un lore taste. Mmm, buono! Però non sente la rosa e sente solo la pesca. mmm, botto da 1 a 10 gli do un 9 perché non è zuccherato. Ragazzi, vi consiglio di provare questo tè fiusti a un gusto molto gradevole e potete provare altri tipi di fiusti, ad esempio, mango e camomilla, limone e lemmograss, mele e kiwi, gessomino e mirtillo. Direi per questo video può terminare qua, mi raccomando, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati e potete trovare anche su facebook e twitter con chiocciola Loe the Bester. E noi ci vediamo in un prossimo video, questo è tutto. Ciao! Ciao!